raga fischia pan panna gdv gdv che le quelli che ne producono sempre questo qua il libretto questo è il libretto ha come quello vecchio nostro e questo è l'assicurazione di ciò deve avere sempre di dietro che è assicurato praticamente in germania funziona così l'assicurazione ma sempre da marzo a marzo e cambia solo il colore della targa un anno è verde e un anno è blu perché loro così sanno che la targa nuova perché stavano camminare il prossimo anno con questa data si dicono a momento questo vuoi fare il fobacchiotto capire razzi come si fischia in germania insomma lui viene precisamente a regensburg vicino monaco ciao ragazzi 876 chilometri mi sono fatto per il nulla dice sai che gli porti motorino c'è da montare un po di pezzi c'è un'accensione un altro blocco della malossi accensione rulli devo guardare un attimo social in questo sì perché l'ha prestato dice gli è rimasto a piedi sarà grippato dice comunque sono venuto il furgone grande con motorino un po mi ha stavamo di naso e se io mi figlio questo nero tuo questa soddisfazione questa soddisfazione non averlo venduto su internet a nessuno che si conosce ma a un ragazzo che mi segue fischia rag ora si metterà ci si armeggia qui con l'ausilio di martello io lo do a lui se ne fa due uno per uno va meno se non cambia nulla va bene nulla raga tutto qui il 6 e sino qui che avevi visto bellino bellino a un nuovo padrone questo quello gli dai fare cerchi neri bianco cerchi neri nero cerchi bianchi io odio diciamo bianco nero però uguale si vabbè li odio anch'io però sono bellino a vedessi fischia raga ciao ciao nino ciao